ecco la prima neve che sente copiosa siamo il 25 ottobre e quest'anno la precipitazione nevosa si è manifestata molto prima circa 20 giorni prima dell'anno scorso si prevede un inverno molto nevoso e freddo e quindi si prevede un'altra parte La neve scende a falde, sempre più fitta, fra qualche ora avremo un bel manto nevoso. Sono le...